Finalmente dal 2009, dopo il terremoto che ha colpito il nostro territorio, la città dell'Aquila, il capoluogo di regione, dieci anni dal finanziamento dell'opera della centrale del 118, si sbloccano i lavori e inizieranno nel prossimo periodo, nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, i lavori per la realizzazione della centrale del 118 operativa per il soccorso delle persone e per i malati dei nostri territori. Un'opera strategica per tutto il territorio delle aree interne che va a servizio all'efficienza del nosocomio aquilano e del capoluogo di regione.